ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso anche se è gratis l'iscrizione al canale di che sono i dati non siete obbligati questo qua non è una scienza esalta però bisogna bisognerebbe un po conoscerlo prima di dire determinate cose perché con il torino era difficile fare una partita senza unico perché il torino gioca per sporcare a sua volta il gioco dell'avversario juri ci gioca come simeone quindi non è semplice sovrastare squadre come il torino infatti poi dopo si fa male schurz mancandogli anche buongiorno e si aprono le autostrade devo detto erano tosti difensivamente non era una partita semplice attenzione il proposito auguro schurz di riprendersi il prima possibile perché è un calciatore che a me piace tantissimo primo acquisto che io farei in difesa sarebbe proprio lui cioè io prenderei subito schurz calciatore clamoroso difensore clamoroso schurz quindi vogliamo ancora parlare di ticos turam che non segna allora io ve lo ripeto per l'ennesima volta l'ho detto venti giorni fa vai a controllare e te lo ridico ora togliete la clausola a marcus turam perché questo ragazzo migliorerà ancora ne riparleremo tra qualche mese è appena arrivato è arrivato da due mesi miglior coppia d'attacco d'europa ma di cosa vuoi ragionare di cosa stiamo ragionando qui miglior coppia d'attacco d'europa per assist e gol lautaro martinez e ticos turam lautaro non aveva mai segnato così tanto ricordatelo bene merito anche di turam perché lautaro con turam corre meno ti dico una delle tante cose perché segnali più oltre gli assist che gli fa turam sono due giocatori clamorosi l'inter davanti a due attaccanti clamorosi fortissimi è normale non possono fare 50 partite servirebbe un terzo e ora qui veniamo ad una nota dolente e ad una cosa che la devo dire non è un problema la dico al cileno allora si sa tutti vai a prendere dei giocatori di 35 anni a fine carriera sono scommesse qualcuno l'hai pagato anche 8 milioni arnautovic giocatori a fine carriera che ormai hanno dato il meglio lo hanno già dato su questo penso siamo d'accordo tutti di cosa vuoi ragionare non lo so dove i cinese ragazzi non lo so dove i cinese vediamo se viene all'assemblea sono la sega dove i cinese io ti dico il mio punto di vista che sanchez è arrivato in ritardo sulla tabella di marcia è arrivato mi sembra a mezzanotte una roba del genere per come la vedo io sanchez un giocatore di 35 anni sta dimostrando zero attaccamento alla maglia all'inter e soprattutto zero attaccamento a chi lo paga non me ne frega nulla la devo dire questa cosa qua perché non esiste che lui si spenda e che si sacrifici solo per la sua nazionale cosa ti avevo detto quest'estate vuoi riprendere il nino prendilo il nino ma digli che deve chiudere con la nazionale problema è che sui pulma decile ci ha disegnato lui e vidal lo togli male dalla nazionale ma non ti può dare nulla se continui a gestirlo così gli vanno messi dei paletti non ha fatto nemmeno la preparazione noi siamo due attaccanti ragazzi c'è anche la partita con il salisburgo io di quello che hanno preso dalla juve il ricciolore di quello io io non no non lo nomino nemmeno perché mi fa schifo anche nominarlo sono sincero quello hanno preso dalla juve lì quello che fa i balletti quello lì che fa che che fa tuffi anche quello di osa vogliamo ragionare è sempre infortunato ma di osa ragione almeno sanchez che non ha più quello spunto di una volta però sanchez in determinate partite mettendolo dietro le punte perché hai visto è diventato quasi un trequartista non ha più quello spunto l'uomo lo salta però non l'ho capito lui ce la fa ancora un po' a saltare l'uomo ma non ha più quello spunto di una volta però è un giocatore ti rea confusione ti rea caos quando entra sa saltare l'uomo sa fare gli assist a tanta tecnica cioè tra tutti potrebbe essere quello più utile il problema è che che si ricomincia la stessa tarantella della nazionale con parrucca se vi ricordate con conte lui all'inter si allenava stava bene partiva si infortunava e ritornava infortunato poi dopo stava a fermo venti giorni si rimetteva a posto ripartiva per la nazionale ritornava infortunato e si sta parlando di tre anni fa ora è attenta da cinque anni quindi io sicuramente il giocatore sta dimostrando zero attaccamento alla maglia del niente però anche l'inter per come la vedo io pur sapendo che non è semplice perché siamo tutti bravi dalla poltrona secondo me a mio avviso l'inter la dovrebbe gestire in maniera totalmente diversa questa storia su sanchez soprattutto ora che hai due attaccanti due due mentre tutte le altre rose hanno cinque attaccanti ma ripeto quando te in un assessore di mercato prendi sanchez arnautovic e quadrato secondo me te la vai a cercare ho capito non ci sono soldi ma quando non ci sono soldi bisogna tirare fuori le idee poi c'è stato il colpo clamoroso di turama ma l'inter era dietro ausilio era erano tre anni che era dietro la turama per l'amor di dio allora guardando la partita di torino una cosa che volevo dire darmian darmiano è un calciatore che a me piace tantissimo lo vorrei sempre nella mia squadra un calciatore come darmiano per serietà professionalità e soprattutto per costanza di rendimento e affidabilità cioè è difficile trovare un calciatore affidabile come darmiano l'affidabilità che ti da lui non te la dà te la danno pochissimi giocatori però ho incominciato a vedere un calo non so se è un periodo di forma se dipende da quello ma lo vedo giocare solo in maniera posizionale non ti vedo far fare altro lui gioca in maniera posizionale fa il suo compitino lo vedo meno propenso al gioco rispetto all'anno scorso non vorrei che anche lui andando per i 34 35 eh se non sbaglio non vorrei anche lui stesse un po calando per quello ti dico c'hai troppi 34 anni troppo 35 anni lo so che i cinesi non aveva soldi lo so so tutto sappiamo tutti non solo io e non lo so dove i cinesi te lo ripeto però punta su qualche giovane rischia a barcellona fa gol un 2006 l'hai visto un ragazzino del 2006 fa gol in una partita decisiva buttiamo dentro qualche giovane ragazzi ma se i giovani non si buttano dentro ora è un che non hai un euro quando li butti dentro invece di prendere questi 35 anni e poi hanno otto vici 3 milioni sarget 3 milioni e mezzo il ricciolone della juve 3 milioni e ti costano questi viti ingaggi sono soldi buttati dalla finestra capito che ti voglio dire ciao inter non lo so dove i cinesi ciao